Ciao a tutti, ben tornati sul canale, oggi in questo video vi mostro la mia proposta per un make up per San Valentino, che lo festeggiate o no, insomma, mi piace sempre preparare un make up apposto per questa occasione. E quest'anno ho deciso di puntare su un make up per gli occhi colorato sui toni del viola, all'inizio pensavo di farlo più sui toni del rosa, poi non so, provando mi è venuto fuori più sul viola e mi piace molto molto molto, perché comunque non è così carico, cioè i colori si vedono, ci sono, però è molto luminoso, i colori sono abbastanza pastello e secondo me si sposano benissimo con questa combinazione, con questo colore di rossetto che ho scelto. E niente ragazze, vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia, fatemelo sapere con un commento o un bel pollice in su sotto il video, e fatemi sapere anche se volete, se farete qualcosa per San Valentino, io non so se farò qualcosa di speciale, perché per me non è una festa così importante e sentita, quindi sì, si sta, il giorno dell'amore bla bla bla, mi trucco magari un po' più carina, però non la vedo come una cosa fondamentale. E niente, chiudo il video qui, chiudo quest'intro, un bacione a tutti e spero di vedervi nel prossimo video, ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.